A tutti un buon lunedì e un buon inizio di settimana. Perdonatemi se in questi due giorni non ho pubblicato il commento al Vangelo, ma sono state giornate un po' intense dal punto di vista pastorale e davvero ho fatto fatica a trovare un momento per provare a condividere qualche pensiero. Riprendiamo, speriamo, con un certo ordine. Ascoltiamo il Vangelo di oggi, lunedì 4 novembre. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse al capo dei farisei che l'aveva invitato. Quando offri un pranzo o una cena non invitare i tuoi amici, nei tuoi fratelli, nei tuoi parenti, nei ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto invita poveri, storpi, zoppi, ciechi e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Testo molto breve, ma che merita una parola di introduzione. Noi in questi giorni celebrando la solennità di tutti i santi e la commemorazione dei defunti abbiamo un po' perso la lettura continua del Vangelo di Luca che stavamo facendo. Gesù è stato invitato a pranzo da un fariseo e questo diventa per Gesù occasione per alcuni insegnamenti. Uno di questi è proprio quello che abbiamo letto nel Vangelo di oggi. Gesù nota che andare a pranzo è una sorta di status symbol, cioè poter invitare persone di un certo rilievo, poter avere ospiti illustri a tavola, essere invitati tra i primi, poter sedere in un certo posto a mensa. Sono tutte cose che non hanno a che fare semplicemente con la nutrizione, ma dicono il tuo status, esprimono il tuo prestigio. Cioè se sei uno che se invita un politico importante, il politico viene a casa tua, devo dire che sei uno che conta. E se magari a questo banchetto dove c'è qualcuno importante, vieni invitato dal padrone di casa a sedere al tavolo dove c'è l'ospite illustre, beh allora tu sei uno che conta. E se vieni invitato da qualcuno, beh puoi anche immaginare che tu prima o poi gli dovrai restituire il favore. Insomma essere invitati a tavola comporta tutta una serie di giochi, potremmo dire proprio di identità. Essere invitato da qualcuno significa acquisire un'identità, essere riconosciuto, avere un riconoscimento quanto al tuo prestigio. Nel testo di oggi si dice che una delle cose che si usa a fare se io ti invito, tu inviti me. Anzi potrei anche cercare di fare una serie di inviti perché io ci tengo a andare a casa di quello, da che mi faccio degli amici comuni, da che cerco con i miei inviti a pranzo e mi inviti a cena, a entrare nei giri che contano. Invece Gesù dice quando offre un pranzo o una cena non invitare amici, fratelli, parenti o ricchi vicini perché così la loro volta ti invitino e tu possa avere il contraccambio. Ecco la parola chiave del testo di oggi, avere il contraccambio. Questa cosa di invitare qualcuno perché poi lui ti inviti potrebbe essere uno stile di vita, uno stile di vita fondato sul contraccambio. Io faccio perché tu mi faccia, io cerco di fare questa azione perché in cambio riceverò qualcosa, sì la faccio questa cosa, mi fa entrare nei giri giusti. Insomma vivere per il contraccambio potrebbe diventare uno stile di vita, uno stile di vita dove è bandita la gratuità. Io non faccio nulla gratuitamente, non faccio nulla perché ti voglio bene, perché mi fa piacere, devo sempre avermi un contraccambio. Contraccambio e gratuità sono davvero due stili di vita che in qualche modo si contrappongono. Vivere per il contraccambio vuol dire che tutta la mia vita è incentrata sul calcolo, sul conto, sul tornaconto. Io la mia vita la pianifico e la faccio diventare una strategia per averne un contraccambio. Vivere di gratuità vuol dire disinnescare la logica delle strategie, delle macchinazioni. E non è tanto facile, guardate che si può vivere senza essere per forza presidenti della Repubblica di contraccambi. Sono quelle cose che noi chiamiamo anche ricatti affettivi. Sì, io lo faccio, ma perché ne voglio un tornaconto anche in termini di affetto. Io voglio che tu sappia tutto il bene che ti faccio e che ti voglio, perché io mi aspetto qualcosa da te. Un po' è necessario, un po' è normale che noi vogliamo dei ricambi, ma vivere nel contraccambio si può entrare nelle logiche dei ricatti. Io voglio tenerti in pugno soffocandoti di affetto. Io voglio tenerti mio debitore riempiendoti di cose. È un modo di vivere in cui io devo sempre averne un tornaconto, materiale o anche solo in termini di affetto. Ecco invece la proposta di Gesù. E vivi un po' di gratuità, e vivi un po' dicendo va bene, lo faccio, ma perché ti voglio bene e non ne voglio un tornaconto. E lascia vivere le persone che hai vicino a te, che non devono sempre esserti debitore. Potremmo quasi vivere con l'ansia che, oh mio Dio, se nessuno mi è debitore, ma allora io cosa conto? Eh, la tua vita non conta soltanto se riesci ad accalappiare degli adetti. Degli adetti. Quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Avrai la ricompensa nella risurrezione, ma già da ora sei in sintonia con la logica del creatore, che non ci ha creati semplicemente per averne un contraccambio. E tratto è molto bello questo elenco, poveri, storpi, zoppi, ciechi, persone che fanno un po' di fatica nella vita. E chiudo con questa riflessione. Sono a casa queste persone poveri, storpi, zoppi, ciechi, chi non è per forza assolutamente prestante nella vita e nella chiesa. Oppure rischiamo che a volte nella chiesa il circolo di quelli che contano. Sì, va bene, formalmente c'è posto per tutti, un bonifichino con la Caritas non lo rifiutiamo nessuno. Però che agli incontri, che alle cose che contano, venga un po' la gente che contano. Qua è a noi, no? Se diventassimo una chiesa dove c'è posto per chi conta, poi chi sono coloro che contano? Agli occhi di Dio i poveri, coloro che non possono ricambiarti, contano. Ecco, e che siano sempre di casa nella nostra chiesa. Grazie a tutti dell'ascolto e auguro a tutti di cuore una buona settimana.